Vi ringrazio anche quest'anno di essere qui, e con gioia benediciamo voi e le vostre due cilette, ma come vi dico ogni anno, tutta la passione che c'è dietro a questo. Il Signore benedice le nostre passioni, benedice tutto ciò che ci piace, che rende bene la nostra vita, e le benedice perché non diventino delle manie, cioè non si esca da certi limiti che ci fanno perdere la misura delle cose. Per questo chiediamo al Signore attraverso la Madonna d'Europa di benedire voi, tutte le vostre viaggi, il vostro punto cilette, la vostra passione, la vostra amicizia e tutte le giornate che verranno di quest'anno. Spero che la mia benedizione arrivi anche oltre quel portone carelli perché c'è parcheggiata la mia moto. Spero che la mia benedizione arrivi anche oltre quel portone carelli perché c'è parcheggiata la mia moto. Perché il Signore ha chiamato a sé in questo lato, sulle strade, oppure per altri motivi, per malattia, o per l'inchiare. Affidiamo tutta la Madonna e chiediamo che benedica il loro ultimo viaggio verso il Signore. Ave Maria, pieno di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è il nome della nostra morte, amico. Benedica il Signore attraverso la Madonna, tutti voi, tutto quest'anno, il vostro motocicletto vi protegga e vi accompagna sempre. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amico, Regina del Monte di Europa, prego per noi. Auguri a tutti buon anno e buon viaggio.